Abbiamo sofferto con loro e per loro, abbiamo cantato per loro canzoni, ma improvvisamente il sogno si è interrotto dove fa più male, a un passo dalla B. 10 giugno 2012, verdetto finale, Trapani 1, Lanciano 3. Ma la nostra storia inizia in un'altra data, le persone coraggiose sono quelle che affrontano i loro timori e le loro incertezze, sono quelle che le ribaltano al loro vantaggio, usandole per diventare ancora più forti. E allora, coraggio Granata, inizia una nuova stagione. Stadio Provinciale, Trapani Cappi. Cremona, 12 giugno 2013, Stadio Giovanni Zini. C'è un limite nella vita di uno sportivo, un muro che divide la normalità dall'eccellenza. Può essere un momento, una partita come questa. Se hai la forza di superarlo, puoi alzare gli occhi, guardare la luce e pensare di non avere più confini. 94esimo nudo, triplice fischio finale, riapre gli occhi. Ci siamo, adesso siamo i campioni. Gioco di sabato, Serie B. E intanto già lo so, che è l'anno prossimo, gioco di sabato. E intanto già lo so, che è l'anno prossimo, gioco di sabato.